Anzitutto voglio dire che sono molto contento di aver partecipato a questo evento. Personalmente è il secondo anno che partecipo con qualità di relatore per ciò che riguarda il modulo di HTA e anche come rappresentante di AIFA sono molto contento che AIFA abbia deciso da qualche anno di investire in questo genere di attività. Parlo di investimento non a caso perché dal mio punto di vista eventi di questo genere che servono ad avere pazienti più consapevoli a permettere loro di conoscere quello che c'è dietro il percorso di autorizzazione di un farmaco fino appunto alla sua immissione in commercio, inclusa appunto la fase di HTA, di valutazione quindi del place in therapy come pure la fase negoziale, rappresenta a tutti gli effetti un investimento e come dimostrato anche dagli ultimi due anni, dalla pandemia e da tutto quello che è successo per ciò che riguarda appunto l'importanza della consapevolezza del paziente di tutto quello che è il processo regolatorio. In generale l'AIFA e tutte le autorità regolatorie sono spesso viste come delle torri d'avorio che non permettono di avere accesso alle informazioni. Nella realtà si sta facendo non soltanto a livello italiano ma a livello europeo un grandissimo investimento non soltanto per aumentare il più possibile la trasparenza e l'accesso libero alle informazioni, anche quelle più sensibili, ma c'è un grandissimo interesse anche al coinvolgimento diretto dai pazienti dai quali possiamo avere elementi di informazione importante, avere feedback importanti su quello che è l'impatto delle nostre decisioni sul territorio e anche su quelli che potrebbero essere dei nuovi filoni di approfondimento rispetto appunto al profilo di efficacia e di sicurezza del farmaco o anche rispetto all'accesso a terapie per patologie che sono magari ultra rare e neglette. Grazie per la visione!